La love story tra Leonardo Tumiotto e Viridiana Malman non è stata inventata a uso e consumo dell'Isola dei Famosi. E la comparsa di foto prese da Facebook del notatore su siti internet gay non ha niente a che vedere con le sue preferenze sessuali. A scendere in campo per cancellare ogni dubbio è il migliore amico del naufrago Nicola Febbraro, anche gli nuotatore intervistato dal settimanale Viva e Donna. Leonardo continua il nuotatore e ha avuto una sola fidanzata Silvia, quella storica, che tra l'altro era delle sue parti. Ma è una storia che si è chiusa nel 2006. Dopo conclude di ragazze ufficiali non ce ne sono più state. Dunque appurato che i gusti sessuali del naufrago sono ben precisi non resta che congratularsi per la scelta della bellissima Viridiana. Grazie a tutti.